Prende corpo un altro intervento molto atteso nella zona balneare di Ragusa. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Marina di Ragusa nel tratto compreso tra Piazza Malta e la prima riserva dell'Irminio. L'opera, che si estenderà per circa due chilometri e mezzo, percorrerà tutto il lungomare Andrea Doria a fianco del marciapiede lato mare, attraverserà l'area verde pubblica attrezzato e proseguirà lungo via calabrese, rappresentando un'alternativa sostenibile alla mobilità e contribuendo a valorizzare il litorale. Dopo la sottoscrizione del contratto, afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Casì, stileremo in accordo con la ditta un cronoprogramma che terrà conto della tutela dei residenti e degli interessi degli operatori economici nella stagione estiva, realizzando inizialmente solo gli interventi non particolarmente invadenti. Entro l'estate, invece, la pista ciclabile in direzione Casuzze sarà resa definitiva con cordolo e pavimentazione in continuità con quella già esistente. L'opera, fissata ad un prezzo di poco più di un milione di euro, è stata affidata a una ditta di Messina che si è aggiudicata all'appalto con un ribasso del 28%. La nuova pista ciclabile di Marina di Ragusa, che questa amministrazione comunale ha programmato e che sta realizzando, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, si aggiunge a quella esistente relativamente al tratto scalotrapanese Casuzze. Si tratta di un intervento che ci consente, conclude l'assessore, di estendere il tracciato ciclabile presente proprio a Marina, molto apprezzato dalla cittadinanza dei tanti turisti sempre più attratti dalla bellezza della nostra fascia costiera.